Benissimo, siamo tornati in onda, vi saluto. Oggi abbiamo ritrovato il nostro caro amico Ezio Bordoni, architetto urbanista, con lui parlevamo della strada, della superstrada A4, perché dice non è la Treviglio Bergamo, è la A4, è la Pedemontana A35, Ciebrebemi. E diceva l'ultima cosa, perché stasera, se lo vedete stasera, o al 13 e 15, quando lo vedrete, parliamo del PD. Allora, partiamo da quella scelta che mi dicevi nella scorsa trasmissione, dove il PD unitariamente ha deciso che la scelta è quell'autostrada, tracciato più o meno quello originale, che non deve fare tutte le curve, quello sostenibile, che l'azienda che ha messo i soldi, io questo e questo, altri non li faccio. E quindi il partito, è che tutto sommato a livello provinciale ha una sua costruzione, una sua struttura, un suo ragionamento, riesce a trovare un'unità anche su cose difficili come queste. Per contro troviamo un architetto come Bordoni, che ha fatto il consigliere comunale 30 anni, quanti? 5 volte, più di 25, poi a parte un commissario, magari quindi hai fatto un anno o due meno, è stato un importante personaggio a livello provinciale e regionale, prima del PC, PDS e DS ha fatto tutta la storia. Secondo me ha una testa liberale, perché essendo poi un professionista non è un trinareciuto. E va forse per questo che ti hanno sospeso dal partito? No. Per carità. Beh, innanzitutto io, se organizzi una riunione, direi che sull'argomento della viabilità, che è molto più importante rispetto alle questioni mie personali, che non interessano a nessuno. Possiamo, c'è Elio Moschini, che è una persona di grande capacità, che è responsabile a provinciare sulla viabilità e potrebbe venire lui a parlare delle decisioni del PD, che, come dico, confermano quel tracciato di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. E magari con due parti diversi, no? Con persone diverse che parlano, loro parlano del PD, parlano di questo, l'assessore regionale. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Invece, sulla questione interna, io direi che Trediglio, avendo avuto un congresso straordinario il 28 gennaio, ha anticipato un po' quello che sta succedendo in questo momento a livello nazionale. A livello nazionale c'è stata una separazione, c'è un accordo, eccetera, ma c'è un fermento dato da una votazione interna, perché ci sarà una primaria che è aperta a tutti i cittadini che si registrano come elettori o simpatizzanti, ma poi ci sono delle votazioni interne e per i direttivi e per scegliere i candidati da mandare poi alle elezioni, eccetera, eccetera. Insomma, tutta questa cosa. E chi vince? E chi vince? E chi vince? E ovviamente tutti i tesserati votano e c'è anche la rincorsa al tesserare. Scusa, ma non vorrei essere salvato. Ma sono quelle cose tipo DC anni 80? Allora, io la DC anni 80 non la conosco. C'è nel senso che arrivava, ti dico, arriva un amico che faceva un altro mestiere e mi fa porto 1500 tessere a DC, stai attento che ti ammazzano. No, nel PD bisogna portare le persone. Ogni testa conta uno, non ogni tessera conta uno. Per cui non ci sono i tesserati morti o inesistenti. Ci sono le persone che si sono tesserate. E però poi bisogna che i tesseramenti siano aperti. Se tu apri Facebook in questi giorni, ma nei giorni scorsi, perché il tesseramento del 2017 si è chiuso il 28 febbraio, il tesseramento 2016, perdono, che dà la possibilità di partecipare alle famose... Si è chiuso nel 2017. Si è chiuso il 28 febbraio del 2017. Peggio dei bilanci del governo di una volta... No, però ti consente di votare per tutto il 2017. Questa cosa ha prodotto una corsa al tesseramento. Nei giorni scorsi su Facebook ci sono stati fatti degli appelli dalla città di Catania, dalla città di Sanremo. Qualcuno mi ha chiamato da Napoli, perché mi ha chiamato, perché mia moglie, che aveva l'amicizia, ha detto, chiami mio marito, che mi spiega come ci si può iscrivere online. C'è una dita che è un prodotto e non può comprarlo. Non può comprarlo perché lo può dare solo il segretario. O locale, o locale... Arriviamo a Treviglio, tu sei di Treviglio, a Treviglio. Non si riesce a convincere il ex segretario, il segretario, ad aprire il tesseramento. Ma Treviglio aveva un segretario in odore di dimissioni, che si doveva dimettere. E si dimette oggi oppure si dimette domani. Ma quando è che si dimette? Quando si dimette, scade, non si può più fare altri tesseramenti. Lo statuto prevede almeno due giornate di tesseramento. E nessuno, insomma, l'abbiamo vista a metà. Però qualcuno dice, ma sono state fatte delle tessere durante la festa. Ma la gente questa cosa qui cosa capisce? La gente capisce che è un gran casino. E capisce, forse, la verità. Che c'è una battaglia interna. che invece di svolgersi sui contenuti. Cioè, a me piacerebbe discutere. Di quelle cose che discutiamo sempre. Ma da due giorni finalmente in Italia si parla, non dico di eutanasia, ma di testamento biologico. Questa è la discussione da fare. Oppure la strada Treviglio-Bergo. Oppure la ristrutturazione dei condomini, le finanziamenti dei condomini. Oppure qual è il futuro economico di una città di Treviglio. Cioè, Treviglio come, in che settore si può buttare per sviluppare le proprie potenzialità. Quali sono le potenzialità di Treviglio nella società del futuro? È giusto tassare, ma ieri, è una cosa bellissima, questa proposta di tassare il lavoro dei robot. Non ci sono più gli operai in fabbrica. Chi tassiamo per garantire le pensioni del futuro? Tassiamo i robot. Sono questi gli argomenti. Ma se invece la discussione è dove bandiamo il segretario, ex segretario, futuro segretario, lo fa ancora lui, lo mandiamo in regione, lo mandiamo in regione, poverino, non ha un lavoro. Non prende lo stipendio. Lo mandiamo a Roma, lo mandiamo a Milano, ma chi lo vota, eccetera. E i dirigenti si preoccupano del loro futuro personale, cosa che temo avvenga a Roma in questo momento. Cioè, si vota subito, dopo... Diciamo che dopo la Corte Costituzionale ha fatto capire che la legge sarebbe stata... Come si dice? La votazione... Aiutami, come mi è scappata la parola. Nel senso che anche i partiti piccolissimi possono prendersi i loro seggi. È cambiato tutto. Il proporzionale, certo. Il proporzionale, quindi tutti corrono a far partitino. Per cui non è più necessario che io rimanga in questa grande compagnia. Mi faccio il mio partitino. Mi prendo il mio stipendietto. Mi prendo il mio... Ma non vado neanche al governo, ma intanto il suo posto. Ogni gallo si fa un pollaietto, basta che gli capiti una gallinella o due, e lui, insomma, in qualche minuto alla mattina fa chi chiri chiri. Dicevano che non ci volevano gli ideali per fare politica, invece ci vogliono. Ma gli ideali non sono delle cose da fare. Io, Roberto, direi che ci vogliono le competenze per fare delle proposte, visto che non sappiamo più da che parte e rigirarci per uscire dalla crisi economica. Ma tu non credi che bisogna ricominciare? Io non so perché il PD, che è l'ultimo partito rimasto, strutturato un po' come erano i partiti, non riesca a farlo. Cioè, io andavo in sezione, quel poco tempo, che sono poco tempo, sono un po' di anni, fino ai 30 anni, più o meno 35, alla mattina, dal sabato alla domenica, si tirava a fare il problema del semaforo, se era importante, si portava in direttivo, il direttivo ne parlava del Consiglio Comunale, i Consigli Comunali lo portavano in Consiglio, se ne discuteva in giunte, secondo i capigruppo, e si accettavano, si accettavano, e poi venivano fuori i semafori dove non c'erano, si stavano le rotonde, eccetera, eccetera. Si andavano alle commissioni, serie, biblioteca, cultura, agricoltura, eccetera, eccetera, si si facevano le ossa, non si andava in giro a litigare per le cose, le litigate si facevano dentro, si sceglievano i candidati, ma adesso come avviene sta cosa qua? Adesso avviene che quello là degli amici che vorrebbero prendere la tessera, e allora questa è la battaglia, la lasciamo fare, è opportuno, va bene, non è volo, cosa penserà, e i nostri con chi si mette, eccetera, quindi è prima del discorso, non c'è discussione, non ci sono, io ricordo, ma c'era nel PC, c'era nel PSI, nel Partito Liberale, c'erano i congressi attesi, certo, tre, quattro posizioni, più vicini al PC, meno vicini al PC, i lavoratori, non si sente più parlare di queste cose, ma però, due parole sulla tua sospensione, me le devi dire. La mia sospensione, ma allora, sui giornali sono andate delle motivazioni, sospensioni dal partito, assolutamente infamanti, contro le quali, io nel giro di poche ore, ho convocato, una conferenza stampa, per disdirle, perché si parlava, di tessere false, firme false, tesseramento parallelo, cioè, fossimo stati a Napoli, possiamo pensare anche, che qualcuno, avesse stampato, dei modelli falsi, per tenersi i soldi, non c'erano di un altro comune, non neanche. Questa cosa è stata assolutamente, negata dai garanti, che hanno, del partito bergamasco, sì, c'è una commissione di garanzia, di garanzia formata da cinque persone, di provata capacità, avvocati, eccetera, che hanno negato tutto, questa cosa qui. Io avevo utilizzato, per una persona, che poi, a Traviglio conoscono tutti, perché si chiama Silvano Galimberti, gestisce un'agenzia, di risparmio gestito, che insisteva, nel cercare, ecco, di iscriversi, una persona mi aveva dato, un modulo, per la richiesta di iscrizione, non quindi per una richiesta, una semplice richiesta. No, per iscriverti, devi fare la richiesta, devi scrivere nome e cognome, mettere i tuoi dati, non è che poi si stacca la tesera da lì? No, non si stacca la tesera, si potrebbe staccare la tesera, ma in questo caso, non è stato fatto. Quando poi è firmato il segretario? Certo, questa cosa qui, la deve firmare, chi la deve firmare, che nel nostro caso, era o il segretario locale, o il segretario provinciale, perché c'era di mezzo queste cose. 30 secondi. In questo caso, il modulo è rimasto nelle mie mani, quando questa commissione di garanti mi ha chiesto cosa era successo, gli ho detto, guardate, quello ha firmato il modulo, ed è qui ancora nelle mie mani, glielo ho dato. Per farlo firmare qualcuno? Certo, per cui, quelli hanno potuto scrivere che non era successo niente, di irregolare. però tu sei andato sui giornali. Sono andato sui giornali e adesso sono dovuto andare in uno studio legale, anzi, in due studi legali, per uno di Treviglio e l'altro di Milano, che è un po' più specializzato su queste cose, perché la cosa è finita sui media, per cui, per cui, chi si è reso colpevole di questa cosa qui, molto probabilmente, dovrà rispondere. Allora Ezio, ci vediamo prossimamente, perché dobbiamo parlare ancora dell'autostrada, vediamo cosa succede nei prossimi giorni, e poi abbiamo sempre il tema delle ristrutturazioni condominiali, che sono un tema importante sia a livello economico, sia a livello di vivibilità, perché non riqualificare i condomini vuol dire il rischio in breve tempo di creare delle balie, cioè dei posti dove non affittano più gli appartamenti, ma affittano i letti a un mucchio di persone che poi loro, poveretti, non sanno gestire e vengono fuori quello che già sapete, che ne abbiamo già parlato tante volte. Grazie Ezio, tanti auguri, arrivederci a tutti.